Il grande successo a Balossa Bigli per l'iniziativa Un Po' di Noi, un evento in onore dei Grandi Fiume, emozione per la suggestiva processione della statua della Madonna sul Po' Illuminato. Allora abbiamo ottenuto dalla regione Lombardia in concessione l'area golenale e abbiamo ottenuto un contributo dal bando Cariplo Fondo Perduto che ci permette di piantumare delle piante e creare un piccolo parco che può essere reso disponibile a tutte. Concordando anche con il parroco Don Gianluca che ha voluto anche lui questa processione sul Po, la statua della Madonna arriva dal fiume Po tutta illuminata con barche illuminate. È stato un progetto che è stato condiviso dall'amministrazione di San Nazaro. Noi in più a San Nazaro, in collaborazione anche con loro, stiamo facendo un progetto di valorizzazione dell'ambiente che abbiamo qui in Lomellina e quindi vogliamo valorizzare il proprio territorio creando un progetto che valorizzi i percorsi. Salve a tutti, io rappresento gli amici del fiume di Torino, siamo un gruppo di canoisti, proprio adesso ci sarà la cerimonia con i lumini sul fiume. Salve regina, madre di misericordia, Salve regina, vita dolcezza, speranza nostra, salve, salve regina. Salve regina, madre di misericordia, Salve regina, madre di misericordia, Ma quello che mi sembra interessante e bello constatare è vedere quanta gente ha contribuito per la riuscita di questa iniziativa, posso dirlo, tanta gente che non vede in chiesa, però per la Madonna e per la chiesa hanno fatto anche questo. E allora penso che la presenza dei sindaci, anche con le insegne così solenni, sta a dire che quando siamo insieme, stiamo insieme uniti dai valori, quelli cattolici, religiosi, non dovrebbe esserci divisione, non c'è divisione, anzi c'è coesione. Grazie